Andiamo adesso a Verona per una particolare caccia al tesoro, anzi all'errore. Questo è il singolare titolo della giornata conclusiva di un corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri. Protagonisti gli studenti degli istituti per geometri della città. Elena Chemello. Non l'avevo mai sollevata perché questa è la prima volta che veniamo in cantiere e proviamo queste cose. Dai libri alla realtà concreta il passo può essere molto lungo. Lo hanno sperimentato gli oltre 750 studenti degli istituti per geometri veronesi che hanno partecipato ad un corso di formazione sulla sicurezza conclusosi in cantiere sulle tracce dei pericoli che nasconde l'edilizia. La recinzione quindi serve per chiudere una zona dove la rotazione della zavorra non crea problema. Abbiamo studiato a scuola comunque, ma comunque vederle spiegate proprio da gente che fa proprio un lavoro è un'altra cosa. Studiare sui libri a memoria cosa fanno di diverse figure e vederle che da grande potrei essere io una di quelle. Nonostante il calo degli ultimi anni, i cantieri restano tra i luoghi dove si registra il maggior numero di incidenti sul lavoro. Scuola, Spisal, INAIL, CPT, Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, a Verona lavorano insieme per diffondere la pratica, ma prima ancora la cultura della sicurezza. La cultura si costruisce nel tempo attraverso l'esperienza. Con questo progetto noi facciamo fare esperienza di cantiere ai ragazzi di tutte le scuole per geometri della provincia di Verona proprio perché costruiscono la loro cultura. Adesso con il CPT e lo Spisal che ci vedono i cantieri prima e quindi fanno un controllo finalmente siamo riusciti a portare i ragazzi e per loro è importantissimo vedere sul posto quello che dovranno fare. Gli arricchisce? Gli arricchisce ma anche gli stimola.